Ancora minacce ad amministratori nell'Agrigentino. Stavolta il destinatario è il sindaco di Siculiana Giuseppe Zambito. Un parente di quest'ultimo ha infatti ricevuto una telefonata anonima dal contenuto inequivocabile. Quando ha sollevato la cornetta per rispondere, dall'altro capo del filo una voce anonima ha pronunciato la frase, digli a Zambito di farsi la scorta. Immediatamente sono stati allertati i carabinieri, che adesso stanno cercando di capire chi sia l'autore della telefonata, da dove è partita la chiamata e quale sia il movente alla base del gesto. Gesto che conferma quanto sia difficile fare l'amministratore in territori di frontiera come quelli siciliani. Intanto Zambito ha incassato la solidarietà di alcuni componenti dell'ambiente politico agrigentino. Nei giorni scorsi si era registrato un altro caso simile, quando al vice sindaco di Bivona Salvatore Cutrò è stato sfondato il parabrezza della propria vettura.